Come mamma principalmente che come giurista, l'abbiamo letta e siamo molto preoccupati perché questo documento verrà fatto inserire in maniera sempre più approfondita all'interno della programmazione scolastica. Si parla di una vera e propria materia di diritti osessuali all'interno delle scuole. Una cosa molto importante da dire è che coloro che hanno stilato questo documento sono tutti dei soggetti appartenenti a degli stati dove nonostante si parli di liberalità e di emancipazione. Il tasso di suicidi e di aborti è altissimo fra i giovani, per cui non sono delle ottime premesse per quanto riguarda i nostri ragazzi e i nostri bambini, ma ciò che ci preoccupa di più e quello che io andrò a leggere, più che a leggere, a chiarire, sono proprio le programmazioni che vogliono essere inserite nelle scuole già a partire da 0 a 4 anni. Quindi se quello che io dirò vi farà scandalizzare pensate cosa succederà dai 4 anni in su. Questo documento considera il bambino come portatore di un diritto sessuale inviolabile, inalienabile e giusto come soggetto essere umano che si consideri effettivamente ognuno di noi come portatore di un diritto alla sessualità, ma da lì ad andare ad instillare delle idee già da bambini è tutta un'altra cosa. Si parla all'interno di questo documento del bambino quasi come se fosse un malizioso. Cioè il bambino già da 0 a 3 anni c'è scritto che faccia delle battute a doppio senso per capire fino a che punto l'adulto possa spingersi sotto il profilo sessuale con il bambino stesso. Quindi è proprio una malizia che l'adulto mette. Perché? Perché nel caso io dovessi allungare la mano non è stata una mia malattia mentale, un mio problema mentale, è il bambino che mi ha chiesto di essere toccato. Quando si siede sulle ginocchia è proprio perché vuole un contatto fisico finalizzato, un piacere fisico. Vi rendete conto? Si, è proprio scritto ed è un documento pubblicato sul sito del Ministero della Salute. Se voi andate a vedere sono proprio gli standard delle linee guida previsti dall'OMS che verranno poi presentate all'interno delle scuole. Tutto questo come viene programmato? Si parla di cosiddetto grooming, no? Cioè dare la possibilità ai bambini di implementare le loro conoscenze. Cioè edulcorare quello che poi in realtà ha una finalità molto più subdola. Noi abbiamo partecipato come genitori anche a degli incontri. In questo documento si riconosce il bambino appunto come portatore del diritto sessuale a cui verranno dati degli strumenti. Loro parlano di skill. Una volta raggiunti gli obiettivi, cioè appunto insegnati questi vari punti dai 0 ai 4, dai 4 ai 6, quello che il bambino essendo un bambino consapevole potrà a sua volta disporre del proprio diritto alla sessualità. Anche a volte rischiando di prendere le malattie purché ne abbia un appagamento fisico. Cioè si parla esclusivamente del piacere sessuale del bambino, del bambino e poi eventualmente del ragazzo. E quindi anche il bambino potrà disporre consensualmente del proprio corpo. Quindi noi andiamo a leggere, ad esempio, nei vari obiettivi che vengono proposti, anche contro la volontà genitoriale. Questa è una cosa gravissima. C'è proprio scritto contro la volontà dei genitori. E noi negli incontri dove abbiamo partecipato abbiamo più volte sentito parlare i vari esperti, perché si presentano come esperti, dicendo voi quando avete un problema, un dubbio, non andate da papà e mamma perché non sono pronti, perché si vergognano. Venite da noi. Quindi noi diciamo, tante volte, state attenti allo sportello di ascolto all'interno delle scuole, allo psicologo all'interno delle scuole, perché hanno già una formazione che fra virgolette e fra poco li obbligherà, si dice di cosiddetta psicologia affermativa, ad accettare e ad instillare questi dubbi, volti principalmente al gender, perché poi lì adesso vi dirò dove importa, ad instillare questi dubbi per poi incanalare i bambini in dei percorsi che diventano veramente pericolosi, staccandoli dalla famiglia. Infatti gravissimo, mentre non è che partecipiamo a questi incontri, è stato detto che quel discorso del braccio, vi ricordate la distanza di un metro dalla nostra sfera che è il metro? Loro lo hanno venduto come un'ottima cosa, cioè intorno a noi creiamo questo ambiente prezioso che è la nostra sfera privata e se papà e mamma ci abbracciano e ci dà fastidio, cioè non un estraneo, papà e mamma ci abbracciano e ci dà fastidio, loro maliziosamente, ecco i grooming, cosa dicono? Parlo della tua sfera privata come una cosa preziosa e ti metto contro a tuo padre e a tua madre, ti dà fastidio perché l'hanno violata, cioè papà e mamma violano con un abbraccio la mia sfera privata, non è proprio mettere contro i genitori ai figli. Tante volte infatti si intromette la magistratura, soprattutto all'estero dove questa politica delle direttive OMS hanno preso piede, si inserisce la magistratura per far sì che ciò che il bambino desidera venga eseguito anche contro la volontà dei genitori. Noi ringraziando in questo momento abbiamo ancora l'articolo 147 del codice civile che ci permette come genitori di intrometterci nell'educazione dei nostri figli e anche l'articolo 30 della Costituzione ci obbliga. Allora nei punti previsti dagli 0 ai 4 anni si parla innanzitutto di insegnare ai bambini la masturbazione infantile e io mi chiedo da genitore, da 0 a 2 anni, facciamo un bambino che neanche cammina, chi insegna mio figlio e spiega la masturbazione e come? Perché questo lo vogliamo veramente capire. Poi si dice di insegnare ai bambini l'identità di genere, quindi anche già lì confonderli, dagli una possibilità di poter essere A, di poter essere B, C o D. Poi un'altra cosa gravissima, perché dire sì? Ma sia cosa? Torniamo a quel discorso che vi ho detto poco fa, io do gli strumenti al bambino che è portatore di diritto sessuale affinché egli gestisca il proprio consenso nel poter avere un rapporto sessuale. Quindi perché dire sì a un rapporto sessuale? Perché non si lavora sul perché dire no quando sono un bambino e poi quando ci sarà la maturità a vivermi la mia sessualità? Altra cosa gravissima che c'è lì e noi l'abbiamo visto sempre in quegli incontri che vengono fatti per ragazzini da 10 anni, dove se ci sono dei bambini, perché sono bambini delle medie, voi pensate che ci potrebbero essere anche bambini anticipatari all'interno di questi gruppi, no? Bambini di 10 anni viene detto perché tu possa avere delle sensazioni spiacevoli, non piacevoli con il tuo corpo, non ti devi volere bene, ma sensazioni spiacevoli. Nel caso tu li dovessi avere, allora noi ti aiutiamo attraverso degli strumenti farmaceutici a poter evitare di avere queste sensazioni spiacevoli, no? Tutto questo come si risolve? Incanaliamo innanzitutto i bambini all'interno di un'industria farmaceutica, perché la vera finalità è quella, cioè nel momento in cui io confondo un bambino, lo ipersessualizzo, gli do degli strumenti che lo mettono in un mondo che non è per lui, entrerà in depressione, si sentirà triste e comincerà ad utilizzare psicofarmaci, sicuramente. Nel momento in cui fai quel passaggio in più che avrà bisogno perché gli hanno creato una disforia, gliel'hanno creata, perché se io continuo a chiederti hai sensazioni piacevoli o spiacevoli con il tuo corpo e vado a caricare laddove parlo di spiacevolezza, allora ti do la possibilità di risolverli con altri farmaci che sono i bloccanti della pubertà, farmaci pericolosissimi, dei quali leggendo il bugiardino vai a vedere che non puoi toglierli più una volta iniziati, che ti cambiano e ti modificano anche il pensiero, instillano spesso dei pensieri suicidi, c'è una percezione del sé disforico che ti porta poi a necessitare l'intervento chirurgico, dove in America il più misero intervento costa minimo 30 mila euro, quindi ci si rende conto che dietro c'è un'industria molto importante per cui i nostri figli sono carne da macello, loro non hanno in testa il bene dei nostri ragazzi, dietro c'è un'industria che parte a oggi, che siamo solamente all'inizio, sui 3,7 trilioni di dollari. Chiudiamo questo percorso, fatto l'intervento, dove vanno a finire? Una volta che si sono definitivamente mutilati questi ragazzini, dovessero avere il desiderio innanzitutto di tornare indietro è quasi impossibile, infatti si parla di detransizione, ma hanno veramente enormi difficoltà anche a lasciare quei farmaci, perché non si sa, essendo da poco l'utilizzo di questi farmaci, a che cosa li porterà. Ma volessero avere dei figli, una ragazza che si è fatta togliere le tube, cosa farà? A darà ad alimentare o la fecondazione assistita o eventualmente anche l'utero in affitto. Per cui c'è un giro economico che noi neanche immaginiamo e di tutto si parla, tranne che del bene dei nostri figli. Questo è l'obiettivo. Noi come genitori abbiamo nella provincia di Cugno cercato di unirci, abbiamo creato un comitato che se volete aiutarci, ci volete dare dei consigli. Noi infatti abbiamo chiesto supporto ad associazioni come Provita, Popolo della Famiglia. Se volete trovarci, noi siamo sul sito, sulla pagina, sull'indirizzo comdiru, che sarebbe comitato per i diritti umani, chiocciolalibero.it. Voi lì potete darci dei consigli, se avete bisogno nella nostra zona di darci supporto fatelo pure. Una cosa che vi chiedo, cortesemente, presentate prima dell'inizio della scuola la diffida. La diffida che è stata predisposta, lo trovate cliccando consenso in formato gender. Nella pagina dell'osservatorio gender c'è questa diffida predisposta dal popolo della famiglia. Prendetela. Altra cosa, leggete i libri, sono già informati all'agenda 2030. All'interno di questi libri ci sono tutte le tematiche gender. Diffidate le singole pagine, perché altrimenti il professore vi dice che sono pagine della programmazione scolastica. E ricordatevi che gli insegnanti che oggi sono formati su questi argomenti qui, stanno con i nostri figli dalle 5 alle 8 ore al giorno, tutti i giorni. Quindi li possono manipolare tranquillamente.